Un super chef fa visita a Scampia. Maziar Farivar ha incontrato gli studenti dell'Istituto ISIS Vittorio Veneto. Lo chef americano di origine iraniana ha tenuto una lezione pratica di cucina ad un gruppo ristretto di futuri cuochi, preparando insieme a loro un piatto tipico della tradizione culinaria persiana. L'incontro si inserisce nel programma Culinary Diplomacy, lanciato un anno fa dall'ex segretario di Stato Hillary Clinton. Un gruppo di circa 90 chef professionisti, denominato American Chef Corps, che ha lo scopo di utilizzare il cibo e le tradizioni culinarie come nuovo strumento di diplomazia e di integrazione tra i popoli. Sapevo un po' della cucina italiana, napoletana, come tutti gli chef, perché bisogna conoscere la cucina internazionale, ma non è che conoscessi in modo specifico questa realtà, ma sono molto contento invece di essere venuto proprio qui, perché tra l'altro uno degli obiettivi di questo programma è di poter ispirare i giovani e di fornire loro delle indicazioni su come avere fiducia in loro stessi e percorrere la strada che vogliono percorrere. Deborah O'Grady, diplomatica e ufficio stampa del Consule degli Stati Uniti d'America a Napoli, sottolinea l'importanza del progetto e l'entusiasmo degli studenti che hanno accolto calorosamente Chef Farivar. L'istituto si trova in una zona in cui effettivamente è un punto di riferimento, non solo scolastico, ma in generale proprio importante per i ragazzi, quindi siamo contenti che in qualche modo questa collaborazione continua e speriamo che vi saranno altre opportunità in futuro. Siamo stati accolti benissimo, c'erano tutti ragazzi in divisa bianca, con le uniformi da accoglienza, quindi hanno fatto delle domande estremamente intelligenti e puntuali e ci hanno accolto con grande calore.